Sicuramente l'Alessinia è importante per il territorio perché offre tantissime opportunità dal punto di vista paesaggistico, culturale, artistico anche, solo che magari a volte non è così conosciuta come merita proprio l'ambiente, quindi è il caso di poter fare qualcosa per valorizzare tutta la zona, anche perché è abbastanza estesa. Sono venuta appositamente perché la mia intenzione è proprio quella di far conoscere anche il mio piccolo comune.